amici planet tv salve benvenuti a questo nuovo appuntamento siamo in un posto uno che sta andando tantissimo in voga a firenze a firenze ci sono quei locali che vanno alla grande uno fra questi locali e tutta firenze e qua al disco antella come se vecchio c'era una volta il disco antella ora è il pavo real il pavo real c'era una volta di scantella perché io ho fatto i dj qua c'era una volta marco viciani ora c'è il pavo real però c'è il dj alessio e tutti il resto però però la musica è rimasta quella del 70 80 90 anche 2000 qualcosa naturalmente sarà sicuramente un successo della conosci la conosci bene anche te quella musica 69 va bene quindi amici è il punto di riferimento della città di firenze ormai vengono tutti qua se sei adulto perché ci ascrivono proprio se sei adulto allora va bene se sei adulto e però bisognerebbe fare un test bisogna vedere se sei adulto perché adulti è una parolona oggi adulterio io comunque antella è un posto un comune periferia di firenze vicino banneripoli firenze sud molto conosciuto che si vive benissimo dove c'è questo discoteca che adesso sta veramente è veramente di moda a firenze viviamola momento magico magico siamo con plan tv laura toccafondi marco viciani e il pavo real non non comprendere ah ah qualcuno ci può fendere ah ah noi noi sappiamo in cosa credere e di venire con noi siamo ragazzi di oggi noi vai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà ah 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 siamo lì è una grande buonasera plan tv questa sera speciali ospiti grazie ancora buona serata grazie Fabri Music grazie Fabri potecora che bello buonasera maestro Alessio Zelleri buonasera maestro Marco Alcini che bello dica la verità tutta la verità nient'altro che la verità e in quesito è siamo solo all'inizio quindi vuol dire che adesso lei ancora ci puoi parlare sì perché tra poco quindi ti consiglio ci puoi parlare ancora venite presto così qua potete anche parlare con lei Ma ci posso anche fissare volendo, però questo lei non vuole, è tutto a posto. Però dicevo, noi facciamo l'intervista ora perché dopo è pieno, vero? Sì, è vero, sì. Non riuscirete più nemmeno perché veramente va fortissimo. Sì, va bene, però sorridete sempre. Bravo, è bello. Non ho contratto. Non ho contratto, no! Ma il motivo? Perché tutta Firenze viene qua? Gran parte di Firenze viene qua? Non lo so. Perché siamo belle noi. È vero! Un primo augurio a tutti quelli che compiano gli anni questa notte e hanno deciso di fare l'augurio con noi. No? Maestro, ci siamo tutti, diciamo. Di là c'è il bar donne e qui i bar uomini. Come funziona? Eccolo! Sono più bravi gli uomini o le donne a fare le bevute? Gli uomini, gli uomini. Sua specialità qual è? I negroni. Negroni? La prospeedza, i soliti, i soliti. La sua specialità? No, non ho una specialità. Hai ragione perché noi donne sappiamo fare tutto, ci viene bene tutto, capito? Salutiamo i nostri clienti. Salutiamo tutti, venite, andate di là bene perché non siamo bravi. Dai che le parole le sapete tutti. Bevo il caffè io, no, non credo. No, no, continuo, continuo, che state facendo? Siamo registrando. Eravamo in diretta, eravamo in diretta. Eravamo in diretta. Allora, siamo in diretta al gruppo Seguaci di Fica. Federazione Italiana, cercasi amici. Ma scusate, vi devo insegnare tutto. Voi siete la federazione SDF. SDF? Fica. No, ma alla fine è sempre questa. Sempre bella. E questo è il vostro problema, che cambia tutto, capito? Ma è il nostro gruppo, scusate il gruppo di palestra, dove siamo malati. Siete il gruppo SDF, va bene? Meglio, meglio, perché mi assicuro che è meglio. Allora, fammi un video e mi fai la frase. Anche perché se una donna ti chiede cosa vuol dire, siamo dei fenomeni. Mi scusi maestra, è il gruppo. Ho! 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 avevo dato la voce dell'antella edicei edicei dopo dopo sei il vero pavone della situazione bravo io il pavone spiegaci è il pavo real cos'è il pavone real il pavo real quest'anno il sabato è veramente bello perché racchiude una clientela over 35 perché i minori di 35 anni non possano entrare io conoscevo Marco tanti anni fa io conoscevo Marco tanti anni fa quando era giovane quando hai messo di scalantella? io ho messo di scalantella è vero? davvero allora vai 25 anni fa ho messo davvero te lo giuro comunque io e Alessio Giannelli il maestro perché io lo chiamo il maestro ogni sabato notte ci divertiamo insieme a tutta questa bella gente veramente parola d'ordine vi divertite e quindi d'altronde per questo si divertono tutti perché questa sera come dico sempre è per gente grande ma non ancora matura ma non ancora matura e quindi mi è venuto con l'amante e ce lo diga Buonasera Codice a barre E quindi io clicco, che succede? C'è chi si scrive sulla malletta Tastami tutto E chi si mette la tastiera No, è codice a barre Te vai lì E ti dice tutto chi è lui Esatto, allora Io faccio 18 bevute e quando esco Mi passano direttamente come l'S Lunga E mi dicono quanto devo spendere Capito? Questa è la tecnologia Te sei uno, ti voglio fare veramente un complimento Sei uno dei pochi che fa musica dal vivo Che sa anche suonare il pianoforte Benissimo Allora, noi siamo molto contenti Di avervi qua Perché effettivamente stiamo facendo un grande lavoro E Marco, ve ne dici E speriamo che tutto duri Come quanto deve durare E certo, sempre duri Posso dire la volgarità Ok, ci sto La minchia diventa dura Quando? Quando Come nella vita Come la vuoi aspettare? Aspetta Marco non fa rima Non fa rima Se ti viene Se ti viene Se ti viene Ce lo dici dopo Aspettiamo un'ansia Ma che guardi su internet Ma che guardi su internet E tanti tanti auguri per i 60 anni di Pablo Happy birthday to you Allora, dopo l'aiutino da casa Ora Marco mi ci arriva La vita è come la minchia A volte si fa dura senza motivo Marco è sempre il socio romantico E per chiudere questa cosa che hai detto Vorrei dire che siamo al tavolo dei Balli dritti Balli dritti Ora arrivano Ora arrivano Arrivano Sei da vedere Perché sei lo spettacolo Cioè pici Balli È divertente vedere Sì Diciamo che io vado Vado ormai un po' a memoria Vado un po' a memoria Cerco sempre di fare del mio meglio Per fare una cosa Che le persone magari Si accorgono il giusto Ma per noi comunque è importante Durante la serata A memoria Mi fa ridere la cosa Senti Tanti vanno a memoria Allora spieghiamo Lei giochi? Il lusciaio Il lusciaio Vecchio lusciaio Lui fa ballare alle luci E quindi oltre alla musica Anche le luci ti danno un ritmo No Danno un ritmo Danno un'atmosfera Perciò è responsabile anche lui I'm your penis I'm your fire Your desire I'm your fire Come on You see me Ride on 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 me Abbiamo trovato il vero responsabile del locale, eccolo qua, Francesco, vero? Francesco. Uno dei responsabili, sei vero? Uno dei responsabili, sono i social alessi, poi ho altri due soci, Marchino e... E' una delle persone sorridenti qua dentro che ci lavora, com'è possibile questa cosa? Penso che qui si sorrida tutti, diciamo, è un po'... Anche perché c'è da sorridere, perché più di così... Dobbiamo essere noi in primis a trasmettere voglia di divertimento e quello che si cerca di fare è far divertire le persone, cercare di farle star bene e ci impegniamo tanto per questo. Gente adulta, quindi nel senso che... Sì, qui il sabato facciamo una serata da 35 anni in su, è nata per il gioco, una serata che è un tentativo, abbiamo deciso di fare una serata per un pubblico adulto. Allora il pavone c'è te, allora? Il pavone sono io, Alessio... Oh, l'abbiamo trovato, il pavone reale, ecco! Siamo un gruppo di ragazzi giovani, tra l'altro, che non abbiamo nemmeno l'età per entrare in questa serata, quindi... No, è vero, però è nato tutto per un gioco. E comunque se tutti i giovani d'oggi prendessero esempio da come si divertono gli adulti, sarebbero tutti dei bei locali come questo, tranquilli, dove c'è solo il vero, puro divertimento. L'antella! Il pavone reale! Sono loro, il pavone reale! Oh, io c'ho messo dischi qua, eh! Tanti auguri, buon cumpleanno, Paolino! Tanti auguri, Tunia! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Marchino! Alessio! Ma meglio di così non si può, vero? No, meglio di così non si può davvero. Ecco, io non sono abituato a stare davanti alla telecamera come voi. Però sei abituato visto a stare in console? Eh, ormai è un po', è un po'. Ormai mi sento a mio agio lì, eh, mi sento a casa mia. Poi prende la console dove sono cresciuto come DJ, quindi... E dove è nato anche Marco Viceri? Io ho messo dischi qua, eh! La cabina era all'altra parte. Ah, quando era... Eh, io ero, io ero... E lo sai che era l'altra parte, lo sai? Eh, lo so, ma ancora io... Io sono... Io c'ero! Senti, Alessio, come vi è venuta questa cosa? Perché è stato un successo. Tutta Firenze vede qua. Come vi è venuta? Come l'avete... Come l'avete pensata? Allora, in realtà abbiamo fatto... In passato qualche festa... Su questo... Con questo filone... Qualche evento avevi fatto del genere? Esatto, qualche evento. Poi abbiamo detto... Ma... Tutte queste persone... Dove vanno se no a ballare? Perché non si prova a fare una cosa del genere? E... Ci abbiamo creduto... E' cresciuta piano piano... E poi c'è... C'è un po' sfuggita di mano... E... Forse abbiamo avuto anche un po', Si può dire di culo... Però... E' venuta bene. Eh... C'hai un pazzo dietro, lo sai? Eh... E' un pazzo scatenato... Lo so... Marco... Tu... Se le fanno e se le ballano... E' perché noi comunque ci divertiamo... Allora... Te sei giovane... Eh... Questa musica... Come ti è nata dentro? Che è successo? Perché da sempre... Io l'ho vissuta... No... Però da... Quando ero bambino... Comunque i miei genitori... Mi facevano ascoltare... Eh... E quindi... Sono cresciuto con questa musica... E... E... Oggettivamente mi piace più questa... Che quella del momento... Grazie davvero Marco! Grazie! Gli italiani, come on! Come on! Grazie! Sì come fa?